perché dice che devo stare qua a suonare, almeno mi sento per partire allora, sempre tutto bene, facciamo un applauso, tanto per scaldare un po' le mani e essere pronti per il prossimo concorrente tutto qua? proviamo di nuovo, facciamo un bel applauso tutti quanti vi do 50 dollari a testa lo sapevo, funziona sempre chiedete poi a Massimo, Massimo Nicoletti lui dietro c'è il coso allora, prossimo concorrente signore e signore, un bel applauso per Belinda Naccarato uno di tanti ciao a tutti, mi chiamo Belinda Naccarato i miei genitori vengono dalla Calabria e dall'Abruzzo I've been singing, if you ask my parents from before I could even walk but in front of an audience I've been singing since I was about 8 years old and I started singing in a church choir what inspires me to sing from a young age I would watch Serremo with my nonna and that inspired me to get into Italian music I was infatuated with the culture the language, the musical style and one of the artists that really captured me was Andrea Bocelli and to this day he is a musician that inspires me and moves me to sing in Italian and be part of such festivals like this one and today the song I've chosen to sing for you is called Una dei Tanti by Joe Sintieri Signore e signore, Belinda Naccarato Ciao, buonasera a tutti thank you thank you thank you thank you Ti chiedo, amore mio, di dedicar la tua vita solo a me per sempre. Io, una dei tanti, io che non ho niente, ti giuro che il nostro amore potrà cambiare la nostra vita e in noi vivrà per sempre. Ci saranno per noi i sorrisi della sera e quando a casa avrai e ti avrà, tra mia braccia strato a me. Io, un amore a me. Io, sotto le stelle. Io, io sono per me. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.